Ciao, sono Piero Lanza da Fattoria Poggerino. Sono molto orgoglioso di fare questo video nella nostra nuova Tasting Room e voglio raccontare con te oggi una notizia che abbiamo in Poggerino che dal Vintage 2019 saranno certificati organici sul Bac Label. Come potete vedere qui, made with organic grape. Siamo certificati organici in vineyards da 15 anni. Non eravamo in vino per burocrati. In realtà eravamo, ma non eravamo in Poggerino. Siamo arrivati ora e credo che questo vi aiuterà a te di più esplendere il nostro vino e esplendere la passione che facciamo in creare questi vini che sono 100% organiche. Grazie mille, ciao! Ciao!